Musica Buongiorno, buon sabato mattina, ben ritrovati per questo appuntamento quotidiano con l'informazione Occhio ai giornali, 7.30 puntualmente tutte le mattine qui da Fano TV Mostriamo le pagine principali dei quotidiani, le notizie che ci sono al loro interno, Corriere Adriatico e il resto del carino Ma poi guardiamo anche l'almanaco del giorno, quindi il santo del giorno e anche le previsioni del tempo Quindi vediamo che cosa prevede il calendario per la giornata di oggi Sabato 23 giugno, San Giuseppe Caffasso, il sole è sorto alle 5.26 e tramonterà alle 20.55 Previsioni del tempo, sostanzialmente avremo un fine settimana all'insegna del tempo bello, della stabilità Per oggi vedete sabato sole pieno su tutta la regione, cielo sereno, precipitazioni assenti Di temperatura in leggera diminuzione e mare inizialmente molto mosso Ma con moto ondosi in attenuazione nel pomeriggio Quindi il mare non è calmissimo Però il cielo è sereno, è parzialmente nuvoloso anche per domenica Con il transito di alte nubi Le precipitazioni però saranno assenti, le temperature stazionarie E il mare andrà un po' più verso il calmo perché da mosso passerà a poco mosso Le previsioni per lunedì, invece cielo sarà irregolarmente nuvoloso Ci saranno alternanze di schiarite, annuvolamenti, cumuliformi Le precipitazioni sono previste, brevi e rovesci sulle zone interne durante le ore centrali Le temperature saranno stazionarie, le tendenze per la settimana saranno instabili Quindi la tendenza sarà il tempo instabile, favoriti anche da correnti settentrionali E quindi ci saranno anche fino a giovedì condizioni di variabilità Queste sono invece le pagine dei giornali che fra poco vi mostreremo Iniziamo da quella del Corriere Adriatico Eccola qui l'apertura è per il rogo Affano TV Tre prosciolti, Zaccarelli dice finito un incubo Ma poi la fotonotizia centropagina riguarda i danni della pioggia Bomba d'acqua, la costa va in tilt Un'ora di diluvio e 120 minuti di pioggia torrenziale Lagamenti ovunque, vedete l'immagine simbolo è questa auto rimasta in panne in piazzale a Mendola Affano poco dopo il sottopasso ferroviario del Lido Un luogo tristemente noto Intrappolati in un SUV, soccorsi in un sottopasso a Fano Eccola qua, le pagine che riguardano il diluvio che è venuto giù ieri Bomba d'acqua, città in tilt Qui siamo a Pesaro, anche qui i sottopassi diventano dei laghi Le immagini del Corriere Adriatico sono molto eloquenti Soccorsi pure anziani e disabili che si sono trovati in difficoltà Emergenze nelle case allagate in tutta la città E anche qui rogo per un cortocircuito messi in salvo i condomini C'è la cronaca, tra loro anche un'anziana di 95 anni con la sua badante Quindi intervento dei vigili del fuoco in via Cavallotti Come vedete dalle immagini Però tutto è finito, fortunatamente bene La pagina che riguarda il processo per il rogo a Fano TV Tutti prosciolti, come dalla prima pagina Zaccarelli dice finito un incubo con lei anche di lucera E l'epore, la manager dice ora parlo io Ho un'intercettazione da brividi La politica Ricci e ai commercianti Dice abbiamo la soluzione Nuova questura, il sindaco incontrerà i negozianti Però i sindacati di polizia sono divisi Dalla Valle Foglia si parla di iniziative legate all'estate Notte d'amore nei tre castelli Coppia il bacio tra cena e ballo I tre castelli sono quelli di Montefabbri Colbordolo e Sant'Angelo Che diventeranno stasera borghi romantici Questo avviene nella Valle Foglia Nella magia di questi tre castelli A Fano Richiamo dalla prima pagina Con il SUV Finiscono in trappola nel sottopasso Tre ore di pioggia Traffico in tilt Persone soccorse a bordo del mezzo Il mezzo andava però in senso vietato Quindi insomma se c'è un divieto un motivo ci sarà Chiusi anche gli altri Cavalcavie, case allagate in via Cairoli In forti difficoltà Tutti gli esercizi commerciali e le viabilità Nella statale adriatica Chi l'ha percorsa ieri in quelle ore se ne sarà reso conto Ahimè il degrado Non ha mai fine L'ultima panchina Siamo sempre a Fano Del Pincio Distrutta nella notte dai vandali Ecco qua Vedete come è stata ridotta questa panchina Del Pincio Ormai inservibile Senza lo schienale Con una parte rotta sul davanti Nonostante però i controlli Nella zona Resta alto il rischio E le assi di verte Ora rappresentano un pericolo Quindi chiaramente non ci si può sedere Ma è anche pericoloso Starci Passarci vicino A Fano accordo di ferro Tra Arzilla e Lido Due comitati di quartiere Incontreranno insieme il sindaco Qui non si vive solo d'estate Dicono sul tavolo temi forti Come infrastrutture, strade, sicurezza, idrogeologica E vasca di prima pioggia Per appunto scongiurare gli allagamenti Che abbiamo visto nelle immagini E anche nel nostro telegiornale di ieri Nella Valcesano Siamo a San Costanzo L'amministrazione comunale Ha ultimato il progetto di installazione Delle telecamere di videosorveglianza Il patto sottoscritto con la prefettura Che dà la possibilità di accedere a questo bando A livello nazionale per montare le telecamere Nei comuni L'aggiunta individua sette varchi Dotati di due spycam Per la lettura delle targhe Previste anche altre tre postazioni Di videosorveglianza ambientale E due di contesto Quindi insomma Avremo strade e città sicuramente più sicure Con questi provvedimenti Nella città di Pergola Che cresce dal punto di vista sportivo E umano Naturalmente contemporaneamente Pergolese e Gubbio 1910 Patto per il calcio giovane Siglata un'importante collaborazione Tra le due società Unite anche dai colori Delle casacche Ma anche non solo Nella provincia di Pesaro Urbino Ma anche a Cattolica Gabice acquedotto in tilt E garage allagati L'acqua non ha risparmiato Neanche quella parte Di regione e di provincia Piogge intense E alberi caduti Tra riviera E dentro terra Denuncia fatta anche ai vigili Per quanto riguarda L'Iquami E una fogna pubblica Che ha scaricato Come vedete nelle immagini Da Senigallia Che si appresta a vivere I grandi eventi Dell'estate I quali ormai Ci ha abituato Nel tempo Il primo è il Cattera Raduno Niente vetro E lattine Per la questione di sicurezza Ma anche rinforzi Per i maxi eventi Dell'estate Tutti i maxi eventi Dell'estate L'annuncio Del prefetto D'Accunto All'intitolazione Dei giardini Di via Roveretto Agli stabilimenti Della polizia Vedete qui Mangialardi Con il capo Della polizia Franco Gabrielli Che venerdì Era appunto Nella città Della spiaggia Di Velluto Pesaro Cambiamo testata Andiamo Ritorniamo Nella prima pagina Del resto Del Carlino Anche qui L'incendio Dell'emittente Resta senza colpevoli Fano tv Non ci sono Le prove Il giudice Proscioglie Tutti Caduta L'accusa Di danneggiamento Vediamo anche La foto Notizia Qui al centro Che riguarda Comunque Anche La città Di Pesaro Che va in tilt Per la pioggia Bastano dieci minuti Di pioggia Per allagare Sottopassi E bloccare strade Proteste Naturalmente E disagi Poi qui Accoltellò Il suo ex Condannata A sette anni Di carcere Ancora Dalla cronaca Nera E vediamo Nelle pagine Interne Le pagine Del diluvio Che naturalmente È un diluvio Anche di Proteste Sottopassi Allagati Torrenti Nelle strade Pulite I tombini Queste Le considerazioni Dei Dei cittadini E anche qui Immagini Molto eloquenti Compresa anche Quella Di Fano Qui Dopo i soccorsi A quelli che sono rimasti Intrappolati Nel Sottopasso Anche A Pesaro I sottopassi Qui siamo in quello di via Rossi Sempre ferroviario Via Cavallotti Insomma In centro Anche in pieno centro Non solo Nelle periferie La pagina che riguarda Appunto L'attentato Il processo L'attentato A Fano TV Incendio A Fano TV Tutti prosciolti Non hanno commesso Il fatto Il presunto Sicario Era finito In carcere Per il gruppo E non ci sono Le prove La fortuna Solo il caso Ha voluto che le fiamme Non si propagassero All'edificio Fermandosi All'uscio Bruciò infatti Solo lo zerbino Così il reato Passò da incendio A danneggiamento Da incendio A danneggiamento E poi In basso Nella pagina Ci sono le dichiarazioni Della Zaccarelli Dice Sono innocente Ora si rifanno vivi Quelli che erano Spariti Nell'altra pagina Appunto La cronaca Accoltellò L'ex Sette anni e mezzo Di carcere L'imputata È una donna Moldava Di 32 anni L'uomo È rimasto Paralizzato Vedete qui L'immagine Della donna E il luogo Del suo Attentato Del suo Accoltellamento La questura Un argomento caldo Appeso Del suo Trasferimento La questura Però sopra Ai negozi Non è sicura L'anzi Dice L'anzi Del Sindacato Di polizia Lo stabile Contiguo Alle attività Commerciali Aperte È fuori Da ogni Logica Il Siulp Sulla nuova Sede Torna appunto Alla carica Contro la scelta Della sede Di via Zongo La pagina di Fano Del resto Del Carlino La Villa del Prelato Si rianima Dopo 20 anni La Curia L'ha restaurata Dalla prossima Settimana Ospiterà I nuovi Campi Estivi E poi Il tiro a volo Si amplia Ancora Una struttura Che verrà realizzata Permetterà Di andare A norma Con tutte quelle Che sono Le caratteristiche Necessarie Per un impianto Già di altissimo livello Che abbiamo qui A Fano Per il tiro a volo Ma che permetterà Di fare un salto Di qualità Anche nelle Manifestazioni Che questo Impianto Potrà Ospitare E La cronaca Nella Pagina 15 Del resto Del Carlino Morta Lasciata ore Con i De genti E in camera mortuaria Nessuno Poteva Aprire La Finestra La denuncia Delle nipote Che dice Dalle 19 L'addetto Al trasporto Deve venire Da Pesaro Polligioni Di Fratelli d'Italia Dice la dimostrazione Che il Santa Croce Dipende Dal San Salvatore L'ultima pagina Che vi faccio vedere Per questa Rassegna stampa Di sabato Riguarda Urbino I monumenti Ritrovati Diciamo così Lavattoi Seppelliti Riapriamoli Il gruppo Speleologico Urbinate Riscopre Quelli A Lavagine E quindi Insomma I lavattoi Che sono un po' Vedete qui In questa foto D'epoca La storia La storia Del nostro Passato Del secolo Scorso In cui Le nonne Le mamme Andavano Ai lavatoi A lavare I panni Quando le lavatrici Ancora Direi Non erano proprio Di casa Nelle nostre abitazioni Bene Questa era l'ultima pagina Che vi mostravo Per la rassegna stampa Di oggi Occhio ai giornali Torna lunedì mattina Puntualmente Alle 7 e 30 Questo è il numero Che vedete in sovrimpressione 338 49 68 250 Per le vostre segnalazioni Sempre utilissime Che noi Attendiamo Da voi Benissimo Grazie Io mi fermo qui Buon fine settimana A tutti voi